ok ci siamo perfetto ragazzi scusate in ritardo ci siamo palesemente dimenticati oggi martedì 9 settembre no 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 che cazzo di febbraio non è che hai sbagliato neanche di poco ma vabbè fa lo stesso stesso giorno in cui penso che verrà pubblicato dato che lo pubblichiamo adesso praticamente siamo qui per farvi vedere come procede l'esperimento ricordando come al solito che non sono sottovuoto quindi passa un po di ossigeno però se volete fare la battuta sottovuoto è divertente vabbè però per quelli che ci dicono no ma hanno rotto il cazzo no non è vero smettila è vero però no è per quelli che ci dicono è più scontata dell'idolo ormai se lo chiudete ovvio che lo smarciscano sì lo sappiamo però se le facciamo smarcire in un giorno allora l'esperimento non esiste però le condizioni sono clamorosamente buone ancora cioè in realtà hanno fatto un po di muffa dopo le prime due settimane poi hanno smesso sono bloccate sono eterne si può dire si sta facendo un po schifo effettivamente va bene va bene come come in questo passato e questa sarà un'ottima idea da proporre a tutti scriveteci nei commenti qui sotto quale nuovo esperimento vorreste vedere sul canale dei sottovuoto tanto noi ce l'abbiamo già in mente perché noi siamo in sottovuoto quindi noi ce l'abbiamo già in mente quindi se non ce l'ho se non ce l'ho dite voi quello che vogliamo fare noi fare un account fasullo e ce l'autoproporremo però aspettiamo che ce lo chiedate voi che ha dato e che ha dato e ce lo chiamate voi che ce lo chiedate che venga chiesto da voi ecco già mi piace di più chi vuole all'usarle? no nessuno alla prossima ragazzi ciao ciao